E' sicuramente una partita difficile ma come tutte le partite che affronteremo, è una squadra costruita per vincere il campionato e ha giocatori importanti per la categoria. Io ho le mie caratteristiche, non sono ormai una novità, ovviamente quando gioco da terzino sono più offensivo e mi piace fare più la fase offensiva, ma cerco comunque di migliorarmi e di riuscire a fare meglio e di più la fase difensiva. Però comunque dipende dalle partite, dall'avversario che si affronta e niente, quindi deciderà il mister poi se schierarmi dietro, davanti o comunque altre soluzioni. Io ho le mie caratteristiche, quelle ormai il mister le conosce bene e sicuramente sono differenti da quelle di Pier o di Simone Pecorini, quindi deciderà il mister come affrontare le gare. No, sicuramente è un traguardo importante perché sono sempre soddisfazioni per un giocatore e comunque sono contento di averle raggiunte a 28 anni e ancora spero di farne tante altre. No, no, ma infatti come ho detto prima è una cosa importante per questo campionato così lungo, è avere una rosa ampia e che sia chi gioca di più che chi gioca meno tutti all'altezza della situazione. Poi è normale che magari ci sono delle gerarchie, però chi sta fuori deve provare a cambiarle e abbiamo visto anche nel turno infrasettimanale comunque che il mister ha cambiato tanto, cosa che l'anno scorso magari quando c'era il turno infrasettimanale non avveniva e comunque la squadra ha giocato bene, non si è sentita la mancanza di nessuno. Grazie a tutti.